Undicesimo posto nella graduatoria nazionale che lega ambiente stila sulle società di gestione dei rifiuti con bacino superiore ai 100.000 abitanti. Ecolan S.P.A. di Lanciano scala la classifica, resa nota durante l'Ecoforum organizzato in Abruzzo, che tradizionalmente premia i comuni ricicloni a più alta percentuale di raccolta differenziata. E anche qui i comuni soci di Ecolan si distinguono, soddisfatto il presidente Massimo Ragneri. Nell'ambito del report sui comuni ricicloni, tra l'altro molti dei comuni che gestiamo noi direttamente hanno avuto l'attestato di comuni ricicloni, c'è anche una menzione speciale per la Ecolan, in quanto nella classifica dei consorsi, delle società che fanno gestione integrata dei rifiuti, siamo risultati all'undicesimo posto in Italia, primi del centro-sud Italia e quindi siamo una delle società migliori sul panorama nazionale. Ma anche sotto i 100.000 abitanti abbiamo l'Unione dei Comuni del Sinello, che è il socio di Ecolan, quindi il report riporta l'Unione dei Comuni del Sinello, ma sono i nuovi comuni che gestiamo come Ecolan e anche qui abbiamo una posizione di tutto rispetto, siamo al terzo o quarto posto di questa classifica sotto i 100.000 abitanti. Quindi è un motivo di soddisfazione sicuramente per la Ecolan, ma soprattutto per i cittadini di questo territorio. Raggiungere questo obiettivo comunque significa sicuramente impegno costante? E questi risultati si raggiungono se c'è una condivisione tra amministrazioni comunali e società, in questo caso la Ecolan, e soprattutto i cittadini, nonché i nostri operatori che stanno sul campo e fanno il lavoro, quello più importante per la nostra società. Investimenti di circa 30 milioni, oltre 30 milioni sulla parte riguardante l'organico e entro il 7 di marzo avremo il progetto esecutivo del progetto integrato per il digestore, quindi entro il mese di marzo partiranno anche i lavori dell'impianto di gestione anaerobica e pensiamo entro la fine di quest'anno di chiudere quella struttura, cioè impianto della Forsu più digestore nel parco che abbiamo definito della transizione ecologica. Quindi nell'arco del 2024 quali novità ci attendono? Abbiamo inaugurato in questi giorni due centri di raccolta ulteriori rispetto a quelli che già gestiamo, a Lama dei Peligni, ad Orsogna, fra qualche settimana inaugureremo anche quello di Tollo e di Monteferrante, quindi sono tutte strutture e servizi ulteriori che diamo a questa comunità.